Sì, esattamente. Mi sono trovato come leggero del corpo policial per me come direttore del Parlamento. Sommo anche con il mio giocatore di gelo. Non necessariamente è qualcosa di inusuale, ma è portato anche con il Banco che ha fatto un'investigazione. Ora sommo grandi, come un conto di Banco e un'altra conto di Banco, e quando si riuscita a correre, si riuscita. Quando si riuscita a correre, si riuscita a correre un tempo di ricordare di un quartale, ma di quasi mei milioni di Banco, e Banco, si riuscita a fare un'investigazione. Che cosa passa di una placa di BIN, perché è portato normale, ma è portato abnormale, come si riuscita a rapportare come una transazione inusuale. in questo istituto non concerni, e anche con il ministro pubblico per cominciare un'investigazione penal, ma sopra che non c'è narcotraficante sotto la placa di droga, che si riuscita a fare un'investigazione, se si riuscita a fare un'investigazione, se si riuscita a fare un'investigazione grande, ma sopra che non c'è narcotraficante sotto la placa di droga 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 di droga. in questo caso è un tipo di difficile, come si riuscita a rapportare meno di 5.000 mesi. E ho pensato che la banca non si riuscita molto bene, fino a 2.000 florini, fino a 3.000 florini, ma sopra che non si riuscita a fare un quattro, ma sopra che non si riuscita a fare un'investigazione, ma sopra che non si riuscita a fare un'investigazione. Grazie.